La natura ci insegna sempre tutto. Basta guardarla per sapere chi siamo, è l'unico modo che abbiamo per conoscerci, attraverso lei possiamo osservare il funzionamento di tutto, noi compresi. Nell'occupazione dello spazio abbiamo solo due possibilità, scontrarci, armonizzarci. Se ci osserviamo è quello che facciamo costantemente, lo facciamo senza pensarci, è nella nostra natura. Se lo sappiamo, nei limiti della nostra percezione possiamo deciderlo. La natura ci insegna che è la fame sintomo della voglia di vivere, a dirigerci. Meno fame abbiamo e più riusciamo ad armonizzarci con il mondo. Ma noi siamo diversi, noi sappiamo la fame che verrà. Non è lo spazio, il nostro problema è il tempo. Chi vede solo il presente è limitato. Chi vuole conoscere il futuro si limita. Quindi crediamo uno che fa incontro. Chi, 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 chi. Chi, chi. Chia pichà nella voglia di vivere,